Dal produttore al consumatore la cocaina passa almeno per le mani di dieci persone, ovvero il taglio del taglio del taglio del taglio del taglio del taglio del taglio. Quindi potete immaginarvi cosa vi pippate quando comprate un grammo di cocaina. Il taglio del taglio del taglio del taglio. Cosa sei? Una spacciata. Eh, nena. Che, che cos'ha? Barecchina. E a che serve? Guarda. Ma che è questa cosa? Vai! Ma perdi! Ma ci aspettate, la Domini! Mi chiamo Domini. E questo è il mio film. Si chiama Polvere. Ma sai perché sono una puttana, Giona? Ormai ha corrotto tutti voi. Dentro siete cocaina. Ti midst'o mesta. Ho! 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 Tuf pierwszy. Ho! Do situa. Ho!